Dopo aver premiato i piatti della tradizione toscana e i prodotti agroalimentari di qualità, il Touring Club quest'anno ha assegnato il suo riconoscimento più alto a 10 scuole alberghiere della Toscana per il loro impegno nella valorizzazione dei sapori toscani. La selezione, come al solito, è stata fatta dalla regione sulla base di una collaborazione che dura ormai da tre anni con Vetrina Toscana, con il settore della tutela dei prodotti dopo IGP e quest'anno abbiamo premiato gli istituti alberghieri che si sono distinti in questa preparazione, in questa cultura integrata che vede partire i prodotti, il territorio e la preparazione di questi prodotti nella prospettiva di una presentazione al pubblico. Cioè noi premiamo i futuri ambasciatori del gusto della Toscana. Il premio Touring, che è stato presentato oggi a Firenze, riconosce così il valore del sistema formativo alberghiero toscano che sempre più giovani scelgono per diventare parte attiva della tradizione enogastronomica della nostra regione. Questi istituti tecnico-professionali nel settore alberghiero sono quelli che anche nei sondaggi sulle ultime iscrizioni stanno raccogliendo ma maggior successo, quindi che tengono un po' su il settore professionale. Dopo aver premiato negli anni scorsi i piatti e i prodotti, quest'anno appunto si va a premiare il saper fare. Il premio verrà consegnato in occasione di eventi specifici organizzati nei vari istituti che prevederanno degustazioni enogastronomiche realizzate in collaborazione con i consorzi di tutela DOP e IGP della Toscana e con il circuito regionale di vetrina toscana. La regione premia un'esperienza e un'eccellenza. I percorsi di formazione legati al mondo del turismo trovano un legame diretto anche con il mondo di vetrina toscana, quella occasione di rappresentanza delle eccellenze della nostra Toscana, della nostra cucina, dei nostri prodotti tipici che costituiscono ormai un brand acquisito del nostro prodotto turistico.